con l'inaugurazione del deltaplano per quanto riguarda l'umbria si chiude la fase più complessa dell'emergenza e questo ci permetterà di concentrare tutte le nostre competenze amministrative tecniche sulla ricostruzione della quale abbiamo già i primi dati importanti come le pratiche presentate 400 cantieri aperti e 80 già conclusi lo ha sottolineato la presidente della regione umbria catiuscia marini in occasione della inaugurazione della struttura per le attività commerciali a castelluccio nel territorio di castelluccio ha detto ancora marini non c'è una natura facile chi ha scelto di vivere qui sono cittadini tenaci o perosi resistenti ed è stata la comunità stessa a darci delle priorità ci hanno chiesto anzitutto di ricominciare a lavorare quindi abbiamo fatto bene a costruire questa struttura perché è stata la stessa a castelluccio che l'ha voluta a presto Grazie a tutti.